Perché quando veniva a Cleopatra, io ho accostumato a gente di cinema, anche in Cleopatra abbiamo lavorato, allora era un periodo molto bello, ma si facevano molti film a Istia, si è fatto a Cleopatra e noi, pensi che noi a Istia non conoscevamo l'acqua minera, la prima volta che ci hanno dato il panino con la forza, ci hanno dato una bottiglia d'acqua minerale, noi non conoscevamo l'acqua minerale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.